Buongiorno, ricordiamoci perché sto ricevendo un po' di messaggi in privato che domandano di, che hanno la curiosità di sapere di più, perciò ricordiamoci che è una spirale ascendente tutta l'esistenza, tutto ciò che è, chiamiamolo come vogliamo, il creato, l'essere, la vita, l'universo, noi, perché siamo frattali, universali, è una spirale ascendente, il movimento è sospirale ascendente, ok, che diventa sempre più grande, perciò quando c'è un portale, noi lo chiamiamo così, ma ragazzi comprendiamo che sono anche delle scuse per connetterci con questa consapevolezza e con questa coscienza, ok, e che tutto quello che io vi dico è il mio, e che ogni sapere, ogni scienza non si sovrappongono alle altre, perciò tutto è valido, senti quello che li suona per te, perché ci sono astrologi molto bravi che possono spiegarti dal punto di vista astrologico, astronomi, sciamani, no? Quindi dal mio io vi dico, noi siamo una spirale ascendente, perciò ogni volta che c'è un portale per me, e quindi il 444, perché 4 aprile 2020 è 444, è una scusa per connetterci a queste sincronicità e per compiere consapevolmente il salto quantico, cosa vuol dire? Entrare in una spiralazione maggiore, quindi in un prossimo ciclo, effettuare il salto quantico, ci siamo? Ci amo tanto, ci voglio bene, ciao!